Ben ritrovati amici telespettatori. L'emergenza coronavirus impone una serie di norme restrittive, peraltro modificate e modificabili nel tempo, e impone anche una riflessione. Per questo abbiamo con noi in studio il nostro arcivesco, l'arcivescovo di Manfredonia Vieste San Giovanni Rotondo, Padre Franco Moscone, che è anche il presidente di Casa Sollievo della Sofferenza ed è il direttore generale dei gruppi di preghiera di Padre Pio. Bentornato fra noi, Padre Franco. Grazie a te, Padre Pio, che ci aiuta in questo momento particolare a sentirci chiesa e a sentirci in comunione tutti. E quindi cominciamo proprio da quello che non ci è più consentito o quello a cui dobbiamo stare attenti come fedeli, Io direi questo. Ci è consentito tutto come prima. Probabilmente sono le modalità che devono variare, soprattutto quelle che ci mettevano più vicino e ci esponevano a celebrazioni, diciamo, di massa o di gruppo. Ma non ci viene tolto nulla. Io credo che questa situazione ci possa rendere più solidali, riconoscendo che ognuno di noi, obbedendo a quanto ci viene chiesto, anche se magari non l'avremmo mai pensato né desiderato una cosa del genere, si può sentire solido con tutti gli altri. E quindi possa essere un momento in cui cresce veramente la solidarietà, si supera quello che è l'egoismo individuale, che a volte si nasconde anche in situazioni, diciamo, di massa o di gruppo. E ci fa sentire veramente chiesa e società civile. Quindi la mia speranza è che se viviamo questo tempo in modo corretto e tra virgolette obbediente, poi dell'obbedienza ne possiamo parlare, ecco, cresca la solidarietà e anche se magari rimaniamo separati ognuno nelle nostre case, però sappiamo che questo lo stiamo facendo per il bene di tutti, sentendoci solidali con tutti, tutti in qualche modo isolati, ma tutti uniti per la medesima finalità e il medesimo obiettivo, che è quello della salute e per noi che crediamo è quello della santità e della sanità. Ecco, nella notte fra sabato e domenica il governo centrale ha emanato alcune norme ulteriori e ulteriormente restrittive. In alcune chiese non sarà possibile celebrare l'Eucarestia, molti già da tempo, soprattutto nelle cosiddette zone rosse, cominciano a seguire le celebrazioni attraverso la TV. Ecco, da questo punto di vista spendiamo una parola per far capire se queste celebrazioni diciamo hanno una loro validità in questo caso di prevenzione diffusa. In questo caso credo che questa modalità della celebrazione, quando non è possibile la partecipazione diretta, cosa che valeva già prima per le persone anziane, gli ammalati, chi non poteva direttamente accedere ai luoghi di culto dove si celebra l'Eucarestia o la funzione liturgica, ecco, io credo che in questo momento forse anche la tipologia di società in cui siamo dentro, così mediatica, così digitale, ecco, ci possa aiutare a capire che alcuni strumenti possano essere le nuove modalità, in casi particolari, che sostituisce lo stesso edificio di culto. E quindi la celebrazione attraverso lo strumento della TV, dello streaming, della radio, in quel momento sia e costituisca la stessa caratteristica di quello che era la Chiesa e l'edificio sacro in sé e raduna, raduna attorno alla parola e all'Eucarestia, se si trasmette, le anime, le persone e quindi compie la stessa funzione e la compie in un momento di particolare urgenza, di particolare rischio e quindi ha una funzione ancora migliore e superiore a quanto non abbia in questo momento l'edificio sacro in sé. È un modo per dire che il sacro entra anche nel digitale, nel mediatico, perché il sacro è la presenza del Signore e il Signore entra in tutti gli strumenti, se gli diamo spazio, non ha bisogno di limiti o non si costruisce degli edifici. Lo diceva già l'Antico Testamento, che casa vuoi costruirmi tu Davide? Sono io che la costruisco a te. Insomma, questi sono strumenti e gli strumenti si adattano alle esigenze, al momento per il bene del popolo di Dio e della società, per il bene dell'umanità che Dio ama, che Dio ama sempre e che Dio sta amando in questo momento. Parlava prima di obbedienza, il decreto del Consiglio dei Ministri richiama il codice penale in caso di inosservanza delle norme, ma per noi credenti, per noi cristiani, l'obbedienza in questi casi è anche un dovere morale? Direi che è un dovere etico, civile e di sicuro un dovere morale. Ricordo che la prima virtù che viene attribuita al Figlio di Dio è l'obbedienza, si è fatto obbediente al Padre. Tutte le altre ne seguono di conseguenza, ma senza quella le altre non hanno senso. Quindi forse è proprio il momento in cui siamo chiamati a riscoprire il valore della prima virtù di quella che ci lega direttamente a Dio. E per chi crede il peccato è fondamentalmente disobbedienza, ossia rottura del obbedio, dell'obbedire, del farsi vicino, di accogliere. Ecco quanto il Signore ti chiede. Ora, è chiaro, ce lo chiede la società civile, ce lo chiede l'autorità pubblica, ma noi siamo parte di questa società, non ne siamo fuori, non ne siamo esenti, siamo debitori e allora dimostriamo con la nostra obbedienza che obbediamo e abbiamo un motivo in più, perché l'origine dell'obbedienza viene da Dio che è Padre di Amore. In questo periodo c'è anche una riscoperta del valore della preghiera. Ce ne accorgiamo dalle tante richieste che ci arrivano di pregare sia per l'emergenza in corso, ma in generale. Cioè la gente ha riscoperto il valore del dialogo con Dio, ma solo quando c'è bisogno. Beh, a volte, insomma, se noi leggiamo la maggior parte dei testi di preghiera, sia quelli contenuti nella Sacra Scrittura, nello stesso Padre Nostro, la prima forma di preghiera è quella di richiesta al Signore. Quindi quando c'è bisogno, forse sentiamo maggiormente in noi il bisogno stesso della preghiera, perché la preghiera poi non è solo richiesta e relazione, è lo strumento, la modalità per metterci in relazione con Dio, ma le situazioni di bisogno, di carenza, di limite, che fanno parte del fatto che siamo creature e non creatori, ovviamente ci mettono in evidenza prima di altre cose, le necessità, i bisogni, ed è per questo che la maggioranza delle nostre preghiere sono preghiere di richiesta e magari si fanno vive in momenti di difficoltà, di crisi, mentre quando ci sembra che tutto vada bene, questo è più soffuso. Nella nostra società italiana ci sono due atteggiamenti di fondo in questo periodo, in taluni leggerezza e magari atteggiamenti poco prudenti, in altri paura. Una parola da padre e pastore per gli uni e per gli altri. Direi che sono scorrette tutte e due le forme, insomma la paura è un atto di difesa, è importante e che è parte della psicologia dell'umanità in quanto animale, perché gli esseri viventi hanno la paura come elemento di difesa di fronte al rischio, di fronte a situazioni. È importante che la paura non si trasformi in panico, non si trasformi in ossessione, in altre forme che diventano patologiche e quindi non sono più quello strumento di difesa, ma diventano a loro volta una malattia. Ora, di fronte a questa situazione c'è il rischio che oltre al virus del coronavirus si aggiungano virus di tipo sociali, di tipo psicologico, che vanno senza dubbio combattuti con la fiducia. Noi abbiamo la fiducia innanzitutto in Dio, ma anche la fiducia nella scienza, nelle autorità sanitarie e civili, che conoscono di sicuro le cose meglio di noi e hanno gli strumenti per poter darci le indicazioni corrette che dobbiamo seguire. Quindi, una volta non c'erano questi strumenti, ce ne sono di più oggi. Siamo di sicuro più facilitati a superare questa crisi di quella di cui parla il Manzoni nei Promessi Sposi della Peste del 1631 o quella del Decameron nel 1348, se non sbaglio, di cui parla il Boccaccio. Oggi abbiamo strumenti decisamente più sicuri e dobbiamo essere fiduciosi in questo. Dio non è contro la scienza e la scienza non è contro Dio. Insomma, il cammino e lo sviluppo è secondo la creazione di un'umanità che è immagine di Dio. Poi direi che come Italia, insomma, come nostra nazione siamo al mondo insieme al Giappone, mi pare la nazione che ha la media di età e la prospettiva di vita più lunga. Che cosa significa questo? Che probabilmente siamo quelli che abbiamo dei sistemi sanitari migliori, più capillari. In effetti nessuno ne è esente da noi. tutti possono adire al Servizio Sanitario Nazionale che siano ricchi, che siano poveri. È dato per tutti. E questo di sicuro ha favorito lo sviluppo della società, la salute pubblica, la prospettiva di una vita più lunga e ha tutti gli strumenti per superare questo momento di epidemia o di pandemia. Forse più di altre nazioni che non hanno, pur essendo più ricche e più teoricamente sviluppate di noi, questi strumenti a servizio della popolazione. Di cui che dobbiamo difendere, dobbiamo esserne anche onorati di averlo. Io sono convinto che al termine di tutto l'Italia ne uscirà e il sistema sanitario italiano ne uscirà di sicuro a testa alta perché avrà dimostrato uno di non essere stato zitto, di aver immediatamente attivato tutti gli strumenti che aveva in chiarezza e in trasparenza e aver chiesto alla popolazione anche degli elementi di molta difficoltà e di peso e se la popolazione ha reagito in obbedienza ed in fiducia le cose si risolvono e il dopo sarà senza dubbio migliore e sarà anche un onore. L'ultima parola, gli imprudenti. Gli imprudenti ci saranno sempre. Sappiano gli imprudenti che stanno compiendo dei peccati, se sono credenti stanno compiendo dei peccati, oltre a quello di gesti scorretti e di sicuro che possono essere anche penalmente perseguibili. Quindi cerchiamo di evitare comportamenti di imprudenza o di superficialità o di menefreghismo perché non è il momento per queste cose, per nessuno. Grazie a padre Franco Moscone per averci acceso una luce sul nostro cammino in questo periodo in cui il percorso sembra essere accidentato. È un esodo, stiamo vivendo una quaresima diversa dal solito. Ecco, eravamo abituati a quaresime rituali, almeno io, 62 anni, ricordo, non so, quante quaresime, era sempre il rito. Ecco, questa forse è una quaresima che diventa veramente esodo e che va a toccare la nostra carne e le nostre abitudini perché le sta cambiando del tutto. E come credente e come vescovo mi sento di dire che forse il Signore ci sta insegnando il vero significato della quaresima e dell'esodo. Se ce lo lasciamo insegnare, ecco, alla fine ne scopriremo maggiormente il valore e troveremo anche il significato vero della Pasqua, non come semplici riti o come ricordi di un calendario, ma di una realtà che tocca la nostra carne, la nostra esperienza, la nostra vita, la nostra storia e la storia di questo momento. Grazie padre Franco per queste parole di speranza perché l'esodo si conclude con la terra promessa come la quaresima con la Pasqua, quindi alla fine vediamo la luce. La risurrezione. E quindi con questa prospettiva ci congediamo da voi amici telespettatori. grazie a tutti i nostri amici telespettatori. Grazie a tutti i nostri amici telespettatori.